ahi ahi con qui l'inicella oggi siamo qua perché questo video è un video molto speciale è lo speciale dei miei primi 10 iscritti che ha tardato un po' ad arrivare ma adesso è qua iniziamo tutto è iniziato a maggio all'inizio di maggio primo iscritto secondo iscritto terzo iscritto quarto quinto sesto settimo ottavo nono e decimo vi ringrazio molto questo traguardo è un piccolo traguardo ma significa molto per me io mi impegnerò per continuare sempre di più e cercare di dare il massimo il come ho detto lo speciale ha tardato ad arrivare e adesso siamo a 13 iscritti 6 5 2019 questa data sarà molto importante perché segnali inizio di un'avventura di un'avventura che di un'avventura di un'avventura Grazie a tutti.